Vincere è una partita importante ma non poter festeggiare. E' quanto succede al Chieti che batte 2-1 in San Zaccaria ma retrocede in Serie B. Dagli altri campi infatti non arrivano buone notizie per le neroverdi che scendono in campo determinate sfiorando il vantaggio già al quarto con Marinelli che colpisce il palo. All'ottavo risponde San Zaccaria con Filippi che sfrutta l'uscita vuoto di Falcocchia ma trova pronta Carozzi che evita il gol. Poco dopo è la volta di Principi, tiro che esce di un soffio, ritmi frenetici, al decimo azione personale ancora di Marinelli, la conclusione lambisce il palo. Il risultato si sblocca al sedicesimo, cross di Pir, Razzolini gira la sfera alle spalle del portiere per il vantaggio ospite. Il Chieti spinge per pervenire al pareggio ma non trova la giocata vincente, sul fronte opposto il San Zaccaria sfiora il bis al 42esimo ancora con Razzolini, la sua girata si stampa contro la traversa. In avvio di ripresa, altra chance per le biancorosse con Barbaresi, provvidenziale l'intervento di un difensore che devia in angolo. Al cinquantesimo strepitosa Tampieri che prima chiude la porta a Tona, poi si supera sulle tapine di Giulia Di Camillo. Si passa da una porta all'altra, al 52esimo Principi si divora la rete della sicurezza calciando alto. Il Chieti alza il baricentro e dalle 71esimo vada un passo dall'1-1 con Ineruber che colpisce la traversa. Al 77esimo il pareggio, Tona si coordina bene e trafigge Tampieri. Le due squadre vogliono vincerla, all'ottantesimo il San Zaccaria spreca un'altra ghiota occasione con Razzolini che invece di tirare serve Casadio ma Falcocchia è strepitosa. Il giovane portiere neroverde si ripete all'ottantesimo sulla bordata da fuori aria di Barbaresi. Nel recupero il Chieti trova il gol vittoria ancora con Tona che fulmina Tampieri e la rete che chiude il match sulle 2-1 e che sancisce il ritorno del Chieti in Serie B. Purtroppo è successo quello che speravamo non accadesse. Probabilmente ci siamo accorte forse un po' troppo tardi di tutto quello che stava accadendo perché abbiamo avuto soprattutto nel girone di ritorno tante opportunità per poter fare questi punti necessari per poter agganciare la salvezza o quantomeno i play-out. E' andata così però come ho già detto a Chieti siamo già pronti per poter ripartire perché questa è una piazza che merita di stare in alto e quindi grazie comunque a tutte le persone che ci sono state accanto anche se comunque va detto che qualcuno un po' solo ci ha lasciate però fa parte anche del gioco.